Musica Si è svolta lo scorso 10 novembre presso il ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco, la tradizionale cerimonia di riconoscimento della fedeltà associativa di confartigianato Cuneo, zona di Bra, importante occasione per tributare un riconoscimento alle imprese che da lunga data aderiscono all'associazione in momento per mettere al centro i valori di laboriosità e attaccamento al lavoro. Presente la cerimonia della fedeltà associativa, oltre alle imprese premiate, numerosi rappresentanti dell'associazione, del mondo, delle istituzioni e della politica e diversi associati della zona che hanno voluto condividere la cerimonia al successivo momento conviviale. Nell'ambito della cerimonia si è anche sviluppato una tavola rotonda sulle recenti limitazioni alla circolazione per i mezzi diesel Euro 3 introdotti dal Piano regionale per la qualità dell'aria, sul conseguente impatto per le imprese, sulle proposte che confartigianato ha sviluppato nell'ambito del dialogo costante con enti e istituzioni. In questo momento di valorizzazione delle nostre aziende, valorizzazione dello spirito associativo e dell'importanza dei corpi intermedi, questa sera premiamo chi ha più di 35 anni di fedeltà associativa alla nostra struttura, alla nostra associazione, o più di 50, è proprio un momento dove vogliamo dare a loro questo prestigio, questo valore per aver resistito tutti questi anni nel mondo dell'economia, un'economia che ha anche dei problemi, quindi sta attraversando dei momenti di difficoltà e quindi è giusto riconoscere a queste aziende il ruolo importante che hanno sul nostro territorio. Questo sarà anche un momento per fare riflessione e dibattito su alcune tematiche che toccano direttamente le piccole e medie imprese artigiane, uno di queste è la qualità dell'aria, la qualità dell'aria che potrebbe creare problemi in più proprio a chi opera utilizzando i mezzi di trasporto. Sì, il territorio albese è proprio interessato dal piano della qualità dell'aria, il comune di Alba insieme al comune di Bra sono interessati da questo provvedimento, ne vogliamo parlare insieme all'assessore regionale, proprio all'ambiente Alberto Valmaggia e al sindaco della città di Bra che per prima ha preso questa delibera che va a limitare quella che è la circolazione proprio per capire con loro, con gli enti, quelle che possono essere le restrizioni che interessano le nostre aziende e vogliamo che non solo le nostre aziende siano colpite da questo provvedimento, provvedimento che è importante perché anche noi tuteliamo e sosteniamo la qualità dell'aria che però deve essere introdotto con delle limitazioni non soltanto per le piccole imprese affinché queste non vengano oberate da altri obblighi e dall'acquisto di nuovi automezzi. Premio fedeltà associativa a Bra, questa sera si parla di sviluppo delle imprese artigiane sul territorio ma si parla anche di tematiche che toccano e che intoppano la crescita delle piccole imprese proprio nella provincia di Cuneo. Uno di queste è la qualità dell'aria. Con le nuove decisioni che sono arrivate dalla regione, proprio i comuni di Bra e Alba sono interessati da queste restrizioni che toccano direttamente soprattutto le imprese che si muovono attraverso il trasporto. Sì, un provvedimento che è stato recepito da una normativa europea che come sempre è stato interpretato a livello italiano in modo estensivo e andando a colpire l'autotrasporto su gomma e in modo particolare quello che riguarda le nostre imprese artigiane. Un provvedimento che era diciamo preannunciato ma che è arrivato senza la dovuta preparazione e di conseguenza oggi noi ci troviamo nella situazione che molte nostre aziende devono obbligatoriamente cambiare i mezzi in un momento di crescita economica importante quindi non è così semplice, non è così facile risolvere la problematica. Siamo impegnati sul sistema regionale ad un confronto costante con l'assessore regionale e con l'aggiunta regionale per cercare di trovare una soluzione che consenta nel breve tempo di permettere alle nostre aziende di continuare a lavorare. Indubbiamente una norma che non preparata a dovere nel tempo ed è entrata in vigore con questa tempistica ci mette fortemente in difficoltà. Pur con questi sentori, con questo panorama, le imprese continuano a rimboccarsi le maniche a lavorare. Qui questa sera si premiano delle imprese che hanno 50 anni di attività che hanno magari 35-40 anni di fedeltà associativa con Fartigianato quindi c'è ancora sempre la voglia di crescere, la voglia di guardare con speranza al futuro. Sì, direi che è una caratteristica del nostro territorio, della popolazione, delle imprese del nostro territorio che con tenacia continuano ad affrontare le criticità del momento. L'artigianato italiano fa parte di quella parte economica che sta sostenendo il Paese e diciamo che c'è volontà di continuare in questa direzione anche perché sempre di più l'economia e la capacità di spesa del mondo richiede prodotti italiani di eccellenza e di qualità e stiamo cercando di promuoverlo in questo senso. E' proprio per rispetto di questi imprenditori che sono stati così persistenti nel condurre la propria attività nel corso di anni in un contesto ambientale difficilissimo per l'impresa e quasi eroico abbiamo pensato di inserire anche un momento sindacale. Siamo così nel cuore dell'applicazione di un provvedimento secondo me sciagurato ed infame che è il piano qualità dell'aria è un provvedimento che è astruso per un semplice motivo che affronta un tema complesso su cui noi concordiamo come quello della salute e dell'inquinamento in modo poco organico. Temi come questi devono essere affrontati con una tempistica, un'organizzazione, una preparazione e un allargamento a tutti i piani in 5-10 anni ma non si può fino all'altro giorno vendere i diesel e poi di colpo dire che i diesel non possono più circolare perché inquinano. A parte che non è vero ma poi se effettivamente il piano fosse stato condotto in modo organico le case automobilistiche si sarebbero dovute tenere sul gruppone tutte quelle macchine. Quindi io considero immorale e indegno che si costringano centinaia di migliaia di persone e di imprese ad assumersi l'onere di cambiare i mezzi. Sicuramente un momento importante di riconoscenza nei confronti del mondo dell'artigianato che opera a volte in condizioni difficili, a volte ci si mette anche come pubblica amministrazione a creare dei lacci e lacciuoli burocratici, però continuo a lavorare con costanza e impegno anche guardando fuori dell'ambito nazionale perché molte aziende lavorano anche per l'estero. Dall'altra parte ci sono dei passaggi che devono essere condivisi e in questo senso c'è la disponibilità piena per affrontare insieme tematiche tipo quelle della qualità dell'aria che richiedono lo sforzo congiunto di tutti, cittadini, realtà produttive, pubbliche amministrazioni perché solo insieme riusciamo a migliorare non solo l'aria ma la qualità della vita di tutti. Premiazione della fedeltà associativa di BRA con un rinnovamento della scaletta, insomma non soltanto premiazioni discorsi ma anche approfondimento di tematiche che toccano direttamente l'operatività dell'impresa artigiana. Certo e l'ha detto perfettamente perché in un momento come questo la gente ha bisogno di concretezza, di discorsi che comunque siano mirati a quelle che sono le problematiche. Quest'anno c'è stata questa innovazione con questa tavola rotonda che si è parlato della qualità dell'aria con l'intervento anche dell'assessore Valmancia, di conseguenza quello che più è di attualità su questo discorso con il nostro presidente regionale Felici e c'è stato un confronto su questa tematica. Sicuramente è stata apprezzata dal pubblico ed è stato appunto un rinnovamento quest'anno sul nostro premio imprenditoria artigiana che ogni anno andiamo a premiare la fedeltà associativa dei nostri associati. C'è stato come al solito un premio per l'artigiano senza confini, chi va a premiare chi si estende oltre i confini del nostro territorio. Un riconoscimento ad un'associazione che è San Crispin e Crispiniano che sono una tradizione per Bra perché Bra per tradizione era una città con delle concerie del dopoguerra e di conseguenza con un'infinità di lavori di ciabattini, quello che purtroppo con quel tempo è andato scemando e comunque si sta di nuovo riprendendo un pochino perché la gente probabilmente non ha più voglia di buttare ma a volte anche di far riparare le cose. Non per ultimo ma il nostro premio artigian d'oro quest'anno è stato dedicato al sindaco della città di Bra, Bruna Sibilla. Bruna Sibilla